Nel caso voleste acquistare un account modato di GTO5 oppure aveste bisogno di soldi per la versione PC o foste intenzionati all'acquisto di Shark Cards oppure vi interessassero semplicemente altri giochi scontati trovate i link di digitizzare in descrizione. A quanto pare il nuovo DLC oltre all'aggiunta di contenuti molto belli per carità e oltre al fatto che invece ne sono stati aggiunti altri che non sono poi così tanto belli e non sono poi così tanto utili ha portato con sé anche molte stronzatone. Una in particolare è capitata al mio collega teologi, ok? Allora guardate questa immagine. Cosa vi sembra ci sia di strano? Oh, un bel cielo notturno con la luna mezza coperta dalle nuvole, sembra un bel panorama, no? Poi guardi un attimo, capisci che c'è qualcosa che non va? Da dove proviene quella luce che c'è in cielo? Poi vai a vedere più vicino ed è la Oppressor, la nuova moto che è stata aggiunta, quella che può planare. Ora uno dice, vabbè, sarà semplicemente di un altro giocatore che si sarà buttato e sarà precipitato. Beh, in realtà no, perché come potete vedere non è morto nessun altro in questa zona e non c'è nessun giocatore in giro. In realtà, semplicemente era morto teologi e la moto non è che ha iniziato a precipitare. No, no, è rimasta lì in aria, così bloccata. Ma perché? Cioè, qual è il senso che la moto si... cos'è che ha causato questo bug? Com'è possibile che la moto resti lì, sospesa in aria, così, senza motivo? Non ha nessun senso questa cosa. Poi uno dice, eh ma è falso questo screenshot, in realtà stava accadendo. Beh, no, in realtà sono due gli screenshot. Non ha registrato, ma ha due screenshot registrati uno in momenti diversi dall'altro. Quindi, potete vedere che non è semplicemente un'immagine ferma della moto che sta accadendo, ok? Mostratovi questo screenshot. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere altre tra le peggiori stronzate che il mondo di GTA V ad offrirci. Iniziamo subito con un argomento caldo per questo periodo, no? Sempre riguardante il nuovo aggiornamento. Allora, come ben sappiamo, i prezzi dei veicoli militari sono di due tipi. C'è il prezzo normale e il prezzo speciale. Il prezzo speciale viene attivato solo quando completate la missione relativa al veicolo, ok? Ed è un prezzo scontato. Ora, io all'inizio pensavo che i prezzi fossero a presa di culo, ok? Perché a alcuni prezzi c'è il prezzo di un veicolo che addirittura è di 2.108.050 dollari. E uno dice, ma perché 50 dollari? Cioè, tanto vale che me lo metti 2.108.000? Cosa saranno mai 50 dollari su GTA Online? In particolare, questo comunque è il prezzo della tampa armata. Ora, io vi spiego qual è la logica di... Perché c'è una logica dietro questi prezzi. In pratica, a me l'hanno segnalata nei commenti. Non mi ricordo il nome di chi me l'ha segnalato, ma lo ringrazio molto per averlo fatto. In pratica, cosa hanno fatto? Hanno preso il prezzo speciale e l'hanno moltiplicato per 1.33. Se voi provate, tutti i prezzi speciali, moltiplicandoli per 1.33, viene fuori il prezzo normale. Ma ora io mi chiedo, perché 1.33? Cioè, qual è il senso? Non ho capito sta cosa. Ma poi, vabbè, arrotonda... No, no, 1.33 preciso. Non è che arrotondano, magari. No, 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 no. Così, e basta. Altro argomento che dovrò sfatare ogni volta che metteranno un veicolo con razzo dietro. Madonna, l'ho già sfatato con la Rocket Voltic, ora lo rifaccio con la moto. L'Oppressor, no? Allora, questa moto, come ben sappiamo, può ricaricare solo stando a terra, ok? Cioè, è stato fatto per impedire ai giocatori di svolazzare in giro, come fu per la Rocket Voltic all'epoca. Però adesso, veramente, stanno ritornando nei commenti quelli Eh, ma, forse è per l'attrito delle ruote sull'asfalto, forse è per quello, forse è per quest'altro. Allora, io vi dico che potete caricare il motore toccando semplicemente con un millimetro di ruota il terreno e poi ricominciando a volare. Se io vi dico questo, ora ditemi qual è il senso di sta cosa. Ora, avete una spiegazione anche per questo? Potete ancora dirmi, eh no, è per il peso della moto, è per l'attrito delle ruote. Allora, basta toccare il terreno per un millisecondo per far ricominciare il motore a ricaricare. Allora, c'è un bug grafico che è presente dall'uscita di GTA Online, ok? Però, forse, perché io quando lo dico, a volte lo dico alla gente, ma gli dico, ma ti sei accorto che c'è questo bug? E la gente dice, no, ma è notato. Ed è normale, perché uno di solito non lo nota. In pratica, in cosa consiste questo bug? Tutti i vestiti sono abbastanza normali, no? Come ben sapete, da lontano il giocatore inizia a scomparire, pian piano, non è che scompare all'improvviso, scompare gradualmente, no? Ok, con questo nuovo aggiornamento, credo, a quanto sto vedendo, sia stato ampliato il raggio visivo, ok? Il problema è che prima o poi, comunque, il giocatore scompare. Gli altri giocatori scompaiono dal raggio visivo a una certa distanza. Però il fatto è che, da lontano, che sia col fucile da cecchino, ok? Se non hai zoomato abbastanza, se zoomi poco, ok? Oppure che sia anche, normalmente, quando il giocatore è abbastanza lontano, in pratica, indipendentemente dal completo che hai, oppure dalle componenti che hai, le gambe degli altri giocatori, quando si allontanano troppo, iniziano a vedersi arancioni. Perché? Cioè, qual è il senso dietro questa cosa? Poi, io, io ho pensato un attimo, credo sia un'illusione ottica tra la pelle delle gambe e, magari, io non so, si confonde, essendo che è distante. Però, non lo so, sembra, sembra sia la pelle delle gambe. Però, perché? Dopo quasi quattro anni dall'uscita del gioco, non è stato patchato questo glitch grafico. Che poi è un glitch grafico che è semplicissimo. Poi, non so, glitch o bug, quale dei due termini sia più appropriato. Comunque, è impossibile, cioè, non è possibile che dopo quasi quattro anni dall'uscita del gioco, ancora non sia stato patchato. Ma poi, da cosa è causato sto bug? Cioè, quello non capisco. Su old gen non succedeva, succede solo su next gen, veramente, non so. Come ben sappiamo, molto spesso, nelle missioni, per fare un esempio, i veicoli resistono molto di più che in free mode, ok? Oppure, nelle scene scriptate, o in qualsiasi altro tipo di evento strano, evento scriptato, cose del genere, succedono cose che normalmente non sono possibili, ok? Allora, in pratica, come ben sapete, potete chiamare il rapinatore, no? Per andare a rapinare un altro giocatore. A parte che, come dissi in un episodio precedente, non ho mai capito l'utilità di questo rapinatore e non ho mai capito cosa faccia, in realtà. E anzi, magari, prima o poi lo andrò pure a vedere, lo seguirò e andrò a vedere che fa sto rapinatore. Comunque, il fatto è che quando si avvicina, ti accoltella, tu cari a terra e lui ti ruba i soldi e scappa via, ok? Tu ti rialzi dopo un po', però, perché una coltellata del rapinatore ti butta a terra, ma una coltellata di un altro giocatore no? Perché? Questa cosa si va bello, lo capisco che è una cavolata, che non è che tu ci puoi far chissà cosa, è un gioco, tutte queste cose. Però, comunque, fa ridere il fatto che una coltellata del rapinatore ti manda a terra e una coltellata di un altro giocatore no. Una cosa che mi sono ricordato grazie a vita da poveri, grazie a un episodio che ho girato poco tempo fa, che uscirà non so quando. Perché, ah sì, c'è anche dappure un capitolo a parte di questo, perché io registro un casino di episodi che poi escono nei mesi successivi, ok? Allora, chiuso questo argomento, mi sono accorto di una cosa. Praticamente tu entri allo Santos Customs, no? Tutto contento, ti modifichi il veicolo, magari hai pochi soldi, no? Lo ripari. Poi, dopodiché, tu esci dallo Santos Customs, magari ti sei dimenticato una cosa, rientri e il personaggio, come un deficiente patentato, rompe il finestrino. Senza alcun motivo! Cioè, a volte succede, tu entri allo Santos Customs e il personaggio rompe il finestrino, così tu lo devi riparare! È quello il fatto, tu paghi per una cosa che non hai rotto tu di fatto! Eh, ok, io capisco che non costa tanto e tutte queste cose, però, perché, santo iddio, perché il personaggio appena entra allo Santos Customs deve rompere il finestrino? Ma che senso ha sta cosa? Ah, poi, relativo anche a questo argomento, non so perché il personaggio rompe il finestrino per lanciare le armi, quando potrebbe benissimo tirarlo giù, e in realtà, in determinati casi, lo tira giù il personaggio il finestrino. In altri casi, invece, anzi, non è che lo tira giù, sparisce il finestrino, non è che lo tira giù. Invece, non so, in altri casi lo rompe. Ma perché? Non l'ho mai capita sta cosa. Allora, un problema delle armi, di cui sono a conoscenza da un casino di tempo, ma ho deciso di parlarne solo ora perché l'ho notata questa cosa, ho detto, effettivamente, forse c'era parlarne nella logica di GTA. Allora, soprattutto per chi gioca molto a Zancudo, che deve ricaricare spesso le armi, c'è un problema abbastanza frustrante. In pratica, se tu acquisti le munizioni di un armi, per esempio, prendiamo il lanciagranate, ok? Tu acquisti le munizioni del lanciagranate, perché le hai finite, no? Ti butti una bomba sotto i piedi, ti ammazzi, quando responi, perdi un caricatore. E questa cosa già ha senso, perché magari tutti i suicidi perdi il caricatore. A parte che non ha molto senso, di fatto, perché se tu l'hai usato, quel caricatore, magari hai usato una munizione, se ti fai esplodere, che tu lo perda, ok, può andar bene. Però se tu non l'hai usato, non ha molto senso. Ma cosa che ancora ha meno senso, è che se tu hai finito i C4, per dire, oppure, ma magari ne hai pochi, no? Tu vai a comprarti le munizioni, dici, ho pochi C4, me le compro adesso che ho la possibilità, poi mi suicido. Tu responi, dici, oh, adesso le avrò tutte le munizioni, le avrò piene, no, 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 no. Tu responi con le stesse munizioni di prima, come se non le avessi acquistate, però i soldi li hai spesi. E' quello il problema, tu i soldi li hai spesi, ma le munizioni le hai perse. Non è tanto il fatto di perdere le munizioni, è tanto il fatto che i soldi tu li spendi per acquistarle le munizioni. E' quello il fatto. Dovrebbe essere il gioco a non permetterla questa cosa. Cioè, non dovrebbe farti perdere le munizioni se tu responi. Cioè, non ha senso che tu spendi i soldi. Magari ti ricarichi le munizioni. Spendi i soldi sudati, magari non hai un account modato. No, ti suicidi, perdi le munizioni. Bene, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito finora. Vi ringrazio, come al solito, per tutte le segnalazioni che mi arrivano nei commenti per cose di questo tipo. E nel caso ne conoscieste altro, un aiuto è sempre gradito. Statemi bene e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!